Bene amici, non sarà una novità assoluta perché in Cina era già presente da qualche tempo, ma arriva ufficialmente in Italia la novità assoluta che arriva con la banda 800 MHz per quanto riguarda le telefonate, il Nubia Z11 Ok, non sarà perfetto, ma... ma è bellissimo Andiamo a scoprirlo insieme Ed ecco la scatola con l'iconico cerchio rosso che segnerà anche il tasto home il nome mi fa un po' ridere perché mi viene in mente quando qualche Mobile World Congress fa lavorava ancora per Telefonino.net all'anteprima di questi telefoni, allora cinesi, sconosciuti in Italia io dissi andiamo a vedere questi nuovi, nuoio, perché tra in inganno la scritta non volevo tirarvi fuori la confezione delle cuffie perché ci ho messo 6 ore a rimetterla a posto ma lo faccio perché sono veramente delle ottime cuffie in ear i gommini ci sono e sono qua dietro per adattarli ai vari condotti uditivi e devo dire che suonano benissimo, veramente delle grandi cuffie poi il caricabatterie addirittura esce a 5, 9, 12 volt carica la batteria molto rapidamente, in un'ora e un quarto, un'ora e venti e carica e poi qua l'adattatore da una parte Type-C, dall'altra micro USB lanciamo la scatola, molto bella tra l'altro accendiamo il telefono, pulsante posto qua a destra sopra i tasti volume, classica disposizione jack per le cuffie, secondo microfono comando a infrarossi da questa parte abbiamo il carrellino dove possiamo mettere dentro o due nano SIM oppure una nano SIM più micro SD espander i 64 GB a disposizione io ho la versione da 4 GB di memoria c'è anche quella da 6, tra l'altro bellissime una colorazione nera e oro ma andiamo a finire la disamina sotto altoparlante microfono e Type-C e dietro sensore di protesi digitali e camera da 13 MP più il doppio flash LED aspettiamo che si accenda davanti abbiamo il sensore di luminosità prossimità, la camera anteriore e poi abbiamo quello che dicevo prima l'iconico pulsante di Nubia ovvero questo tondo che fa anche da LED di notifica e tra l'altro ha il sensore di luminosità anche per tarare la luminosità di questo sensore andiamo con ordine vi parlo della batteria integrata 3000 mAh nella giornata stress mi ha portato a cena adesso vi faccio vedere anche lo screenshot anche se purtroppo non c'è la diciamo non ci sono i tempi di accensione dello schermo i tempi di quanto sto al telefono nella gestione energetica di questo Nubia ma vedete il grafico della scarica un po' come tutti gli Snapdragon 820 non proprio diciamo retto vedete scende di più quando l'ho usato scende di meno quando magari ero in stand by in wifi un po' un comportamento dottor Jack e le Mr. Ile ma devo dire che comunque a sera mi ci ha portato senza usare i risparmi abbastanza tranquillamente torniamo alla home page abbiamo il wifi dual band con anche la versione 5 giga veramente tanta banda tanta ricezione velocissimo dual sim gestito bene ma ne parleremo dopo quando parlerò del dual sim all'nfc pochi telefoni di provenienza cinese hanno l'nfc questo ce l'ha e soprattutto alla banda 20 per quanto riguarda la parte telefonica ma passo indietro versione android 6.01 Nubia UI 4.0 e da tempi non sospetti che a me questa Nubia UI piace da quando uscì lo Z9 Mini se non sbaglio uno dei miei telefoni preferiti di qualche di qualche anno fa ma andiamo con ordine andiamo a parlare di display ritorniamo qua nella galleria e vado qua nella cartella display perché la particolarità di questo telefono sta proprio nel design vedete il display va proprio da bordo a bordo ma non è curvo non si curva ma solamente il vetro che è un 2.5D quindi leggermente stondato va forse a distorcire un pochino i pixel che ci sono qua sul bordo ma poca roba l'effetto scenografico è veramente molto bello e soprattutto è un telefono che si tiene bene in mano perché pur essendo un 5 pollici e mezzo è stretto e quindi e quindi si impugna bene solamente un filino un po' pesantuccio ma anche come materiale ci siamo con l'alluminio al posteriore lo sblocco con sensore di prodotti digitali è molto rapido sensore di prodotti che può essere usato anche per altre mini gesti o rispondere alle chiamate e fare degli degli screenshot ma stavamo parlando del display andiamo nella galleria nella solita cartella con la palette colori è un classico IPS buono per essere un IPS ma ha due criticità la prima è il sensore di luminosità che pur avendo una particolarità adesso ve la faccio vedere subito andiamo qua nel display io l'ho disattivato ma abbiamo la possibilità di attivare una memoria smart ovvero lui riconosce la vostra sintonizzazione fine della luminosità e man mano ve la ripropone però è molto lento a passare dalla poca luce tanta luce e quindi io alla fine l'ho disabilitata anche perché c'è una gesture che si può utilizzare dai bordi molto comoda per alzare e abbassare l'uminosità vedete è questa quindi alla fine ho tolto l'uminosità automatica anche se è da segnalare questa cosa il display è tarabile e l'altra cosa che ha la luminosità massima purtroppo sotto la luce diretta del sole pur essendo un display luminoso non si vede non si vede benissimo andiamo a vedere come gira le particolarità di questa Nubia UI 4 allora c'è il doppio tap per accendere accendere lo smartphone e dai bordi si possono fare un po' di cose allora la prima l'avete vista alzare e abbassare la luminosità la seconda facciamo uno swipe verso sinistra tenendo premuto il bordo posso vedete rapidamente passare da alle varie home poi si possono avviare due applicazioni rapide selezionabili se facciamo uno swipe verso l'altro tra l'altro con un bellissimo effetto grafico di come si può dire di pagina che si sfoglia possiamo attivare per esempio io ho selezionato il gestore delle pagine potete selezionare quello che volete in basso un'altra applicazione invece facendo un doppio tap qua sul bordo a sinistra si può simulare il tasto back tasti che sono qua sotto a scocca ci sono due pallini leggermente retroilluminati avete visto spesso sono uscite icone perché a volte si va a premere per sbaglio sui bordi ma basta togliere come ho fatto io adesso le ho reattivate ma solamente per fare questa prova basta togliere le gesture che sono secondo me un po' ridondanti tipo questa per aprire delle applicazioni tipo questa per switchare e per aprire altre applicazioni magari lasciare attiva questa perché difficilmente si prende dentro nei due bordi e quindi difficilmente si attiverà questa questa gesture e alla fine il problema viene molto molto attutito anzi praticamente non ho mai più preso preso dentro fantastica la possibilità di sdoppiare l'interfaccia facendo uno swipe verso l'alto dalla pagina home perché abbiamo vedete due home page completamente differenti che vanno a riprendere proprio le applicazioni che abbiamo nelle varie nelle varie schermate e tutte le applicazioni sono compatibili perché è proprio uno sdoppiamento dell'interfaccia possiamo ingrandire uno ripicciolire l'altro mettere a tutto schermo un'applicazione rispetto all'altra nel frattempo vi ho già fatto vedere come girano e come si aprono snapdragon 820 girano bene si aprono bene un telefono fluido non ha veramente nessun tipo di problema da quel punto di vista vi faccio vedere anche altre cose che invece non mi sono piaciute la prima è l'impostazione dei pulsanti perché questo pulsante fa da menu si possono switchare e girare questo pulsante fa da back se è premuto poco se è premuto a lungo multitasking però non è veloce avere una gestione di questo tipo cioè un pulsante che bisogna tenere premuto a lungo per poi andare in un multitasking orizzontale non a schede verticali molto più comodo da navigare invece il tasto home se è premuto a lungo avvia avvia google now vi parlo di parte telefonica apriamo il telefono chiamiamo il 190 dual sim vi dicevo prima ha gestito molto bene il 4G switchabile a caldo da una sim rispetto all'altra si può registrare la chiamata attivo il mio voce nel frattempo e lo dico dopo i nostri operatori sono a tua disposizione esclusivamente per bloccare una sim per furto smarrimento allora sono switchabili a caldo le sim vi dicevo quando una va in 4G l'altra può andare in 3G volume dell'audio molto alto ma la chiamata la qualità dell'audio nella capsula auricolare con le cuffie migliora ma nella capsula auricolare è solamente discreta vi dicevo prima la banda 800 quindi nessun problema per quanto riguarda la ricezione abbiamo visto anche la velocità dell'applicazione si aprono in maniera fulmina proviamo a pubblicare qualcosa allora la tastiera è abbastanza reattiva il touch va bene il feed della vibrazione non mi piace un po' troppo zanzaroso ma devo segnalarvi una cosa che le suonerie malati in generale di questo telefono è altissimo difficilmente perdere una chiamata perché l'altoparlante è veramente molto molto potente altra cosa veloce che non vi ho fatto vedere la possibilità di avere uno spostamento facilitato delle icone home page che può essere settata 5x4 come griglia oppure 5x5 per infittire un po' però purtroppo la doc vedete non contiene più di 4 più di 4 icone non c'è il il drawer vi faccio vedere il browser web c'è ovviamente no c'è se lo scaricherete ma comunque si può scaricare tranquillamente chrome purtroppo non so perché ma non c'è la possibilità se non nei siti che lo prevedono di loro di switchare in modalità in modalità desktop vi faccio vedere un attimino come sono le impostazioni e purtroppo non c'è questa impostazione poco poco male vediamo come gira comunque il browser di serie molto velocemente vi faccio vedere lo zoom non c'è il resize del testo però è un browser veramente che che vola molto leggero è veramente notevole c'è il play store quindi nessun problema non è un telefono per utenti consapevoli è un telefono che va bene assolutamente assolutamente per tutti qualche traduzione scricchiolante così cos'ha altra cosa che mi è piaciuto tanto lo screenshot che si può fare anche con il sensore di informe digitali ma oltre alla schermata gratuita che vabbè qua fa parte di quelle traduzioni da rivedere non so cosa voglio dire vuol dire che è la schermata che vediamo si può andare a catturare una schermata lunga quando ci sono delle schermate che devono che devono scorrere oppure posso anche registrare un video dello schermo e posso anche registrare cambiando la qualità del video quindi assolutamente non male vi parlo di gaming velocemente il real racing si apre in 35-40 secondi poi gira fluidissimo che per uno Snapdragon 820 che fa un po' pugni con il real racing non è male vi parlo di fotocamera e purtroppo Buzz l'ho visto troppo a Disneyland e poi magari ve lo faccio vedere nel video proprio girato da questo Z11 ma mio figlio me l'ha rubato e non ce l'ho e allora vai di tappino della videocamera che sto utilizzando così sembra pubblicità occulta e poi mi accusate allora lo giro messa a fuoco devo dire abbastanza veloce non fulminea si possono cambiare le modalità facendo uno swipe da destra a sinistra qua ci sono tutta una serie di possibili fotografie artistiche che si possono fare anche qua vedete traduzioni non proprio perfette questa sarebbe la macro micro spur sembra più una traduzione alla tedesca si può regolare l'otturatore il bilanciamento del bianco gli ISO e il fuoco i video possono essere girati massimo a 1080p però 60 frame per secondo che preferisco la 4k non si può purtroppo settare la qualità dell'immagine quindi la risoluzione possiamo solamente settare il rapporto di forma e qua vedete i settaggi invece più avanzati andiamo a vedere come sono venute le foto che ho fatto proprio a Disneyland dove sono stato ho provato questo e altri telefoni partiamo dalla prima fotografia con tanta luce e fotografia diciamo generale panoramica è venuta bene mio figlio che tentava in tutti i modi di togliere la spada nella roccia e non ci è riuscito purtroppo nella vita bisogna anche saper perdere altra fotografia anche un po' in controluce devo dire è venuta bene gestisce bene le luci questa è una scena del spettacolo degli stuntman molto bello e vedete come è stata ripresa bene insomma diciamo che non ha problemi per quanto riguarda le panoramiche sull'HDR direi bene non benissimo si è vero aumenta le luci ma non diciamo che non stravolge la fotografia comunque lavora abbastanza bene macro molto buone sia su quest'acqua ragazzi ricordatevi perché l'ho pagata 7 euro un litro d'acqua si ok 1854 acqua storica ma 7 euro sono folli e un piattino gourmet in albergo era compreso e allora perché non farci un gazpacho molto buono ma era per farvi vedere le macro che vengono bene anche se in questa situazione non c'era tantissima luce questo dolce era invece eccezionale allora questa foto alla faccia della privacy della signora me ne frego non so di che paese sia no povera signora in realtà secondo me questa è una foto da premio ragazzi guardate che bello dopo una giornata a disneyland riposarsi all'ingresso di un portone finto mi piaceva veramente tanto questa foto allora ve l'ho menata un po' ve l'ho fatta vedere ma anche le foto notturne devo dire che non sono assolutamente male gestisci bene la luce soprattutto guardate questa parti scure parti luminose questa è una foto molto difficile per i telefoni e sono gestite bene le foto fatte con la camera anteriore le trovate in un'altra cartella ho fatto questa fotografia e devo dire che anche qua non sono non sono male questo è un effetto artistico fatto assolutamente casualmente ma è una fotografia che mi piace veramente tanto allora ve la faccio vedere per quanto riguarda i video anche qua vengono bene anche con poca luce la qualità è buona solamente lo zoom non mi ha convinto e ogni tanto magari perdeva il fuoco il fuoco a volte ballerino ma devo dire che nel complesso non siamo a livello dei top camera ma sicuramente sulla sua fascia di prezzo se la gioca tranquillamente per quanto riguarda la fotocamera per quanto riguarda l'audio invece sbaraglia la concorrenza forse Axon 7 aveva questa qualità dell'audio perché sente veramente benissimo e vi faccio ascoltare Bublé altoparlante veramente potente e poi possibilità se entriamo nel menu di migliorare il tono perché è presente l'equalizzazione di Dolby Atmos con la personalizzazione se vogliamo proprio definire banda per banda oppure ci sono delle equalizzazioni preimpostate veramente ottimo l'audio di questo telefono anche dalla cuffia quanto costa? 449 euro garanzia Italia in assoluto ci sono smartphone che costano meno e vanno quanto meno uguali le traduzioni non sono ancora perfette qualche gesture inutile ma mamma mia quanto è figo effetto wow assicurato forse più degli edge curvi è anche più comodo ma banalmente per prenderlo in mano non si rischia di andare a prendere il bordo curvo veramente veramente bello scusate se non attiverete le gesture non avrete nemmeno funzioni a caso che partono involontariamente insomma bello bello poi veloce reattivo fluido e soprattutto affidabile non ho avuto mai riavvio problemi in questi giorni di utilizzo peccato per il sensore di luminosità impreciso per un audio telefonico non al top ma il design c'è la batteria è più che sufficiente la fotocamera è più che buona insomma non sarà un best buy ma sicuramente un buon telefono e finalmente in Ubia ufficialmente in Italia ma non ditelo ZTA Italia che provava da una vita a portarli qua senza mai riuscirci forza dei piccoli ma tenaci imprenditori italiani anzi napoletani ciao Carmelo un saluto e ci vediamo su andreagrazi.com per la recensione scritta